Uno sguardo raro è nato inizialmente come una rassegna cinematografica per contribuire alla giornata mondiale delle malattie rare. Sono precisamente la casa del cinema. E lui è il nostro piccolo protagonista. Di tuo nome a tutti per chi non ti conosce ancora. E' stato bravo che Marco non regista? Sì. E' stato cattivo con te? No? No, beh direi. Bruno aiutaci a leggere le motivazioni. Sì capito. Il confronto tra due diversi, tra il senso di esclusione e il bisogno di socialità, che è Malcomert, ci descrive un piccolo guerriero con un'anima così forte che la sua patologia passa al secondo piano. Puoi aggiungere qualcosa? Puoi aggiungere qualcosa? Sì. Rapidamente. Solo per dire che Alex è qui a Roma per la prima volta e mi sembrava doveroso che stesse qui sul Pasco perché è stato tutto ovviamente un confronto tra me e lui, la famiglia di Alex, Patrizia, la mamma e Giulia. Luca, il fotografo che ha dato un tocco in più ovviamente a tutto quanto il lavoro. E' stata un'alchimia che è accaduta e come tutte le alchimie è qualcosa di magico. Qualcosa di magico come raccontare una storia e sono emozionato. Grazie a voi, grazie a voi. Alex, tutto bene? Sì, sei convinto di questo premio? Sì, ti fa piacere immagino. Prego. Bene, buona sera. Sì, ti fa piacere immagino.